ok ci siamo Elena possiamo iniziare allora adesso mi lascio che ti ringrazio a nome di presenti dal vivo e da remoto ci stiamo abituando a questa duplice dimensione con lo sforzo di riportiamo in presente il risultato che si è frantumato un po' in presenza un po' in remoto e vabbè accettiamo questa cosa gestiamola così abbiamo con noi Elena Granaglia come presentarla è come dire una studiosa come dire secondo noi che dà il contributo straordinario a tutto il tema della disuguaglianza altre volte abbiamo discusso con lei sia per la finezza della sua impostazione sia per l'energia con cui avanzare cose insomma un'interlocutiva straordinaria in tutto il nostro lavoro in tutto il nostro percorso Elena ti diamo la parola e grazie di cuore per l'ennesima volta che ci accompagni lungo il nostro percorso di riflessione a te Elena allora grazie a Ferruccio Ferruccio è sempre troppo troppo gentile che in fase imbarazzante quando fa la mia presentazione comunque lo ringrazio mi spiace molto non è non essere lì oggi non lo lascio parlare su questo mi spiace molto avevo deciso di venire a Milano più questa settimana un po' di cose si sono accavallate quindi eccomi qua e spero proprio di essere rinvitata ed essere di presenza in presenza allora questo titolo ridurre le disuguaglianze insomma sembra un titolo in particolare dopo la specificità delle altre riflessioni che avete avuto in questi giorni sia quella relativa alle disuguaglianze di genere sia quella relativa all'ambiente ridurre le disuguaglianze sembra un titolo un po' generico anche quindi io che cosa ho pensato di fare oggi ma essenzialmente ho pensato con voi di ragionare più in generale su perché ridurre le disuguaglianze avrò qualche grafico qualche numero ma non ne ho molti oggi vorrei fare più una riflessione su questo obiettivo e perché mi sembra importante fare questa riflessione mi sembra importante fare questa riflessione perché il riferimento alle disuguaglianze la necessità anche di contrastarle è entrato secondo me parecchio quando noi sentiamo discute di politica oggi di che cosa fare praticamente non dico da tutte le parti ma in un numero molto ampio di discorsi di presentazioni c'è sempre la ciliegina riduciamo le disuguaglianze le disuguaglianze sono un problema qualche numeretto su quanto le disuguaglianze siano cresciute quindi questo obiettivo è entrato come parola come nell'agenda politica però la mia il mio assunto il mio timore è che si è entrato spesso in un modo un po' retorico semplicemente come dire si paga omaggio a questa nuova attenzione del tempo o comunque non sufficientemente ponderato perché perché per almeno due ragioni la prima è che molto spesso e questo capita spesso anche più a sinistra diciamo così il riferimento è alla altezza delle disuguaglianze e quindi si dice oh l'un per cento prende più del 50 per cento della ricchezza globale un per cento prende questo e così via abbiamo una lista di disuguaglianze se ne registra l'altezza si fa vedere quanto sono estese e poi da lì si deduce che automaticamente sia un problema d'altro canto poi però quando si passa a cosa fare per ridurre questa montagna di disuguaglianze la risposta tipica non tipica ma molto diffusa che abbiamo è che alla fine bisogna contrastare la povertà quindi le disuguaglianze vengono ridotte a povertà e entrambi questi due modi di guardare le disuguaglianze mi sembrano modi problematici a meno questo è quello che io oggi vorrei con voi discutere perché sono modi problematici perché evidentemente l'altezza guardare all'altezza non mi dice automaticamente che quella cosa lì sia sbagliata da un dato descrittivo dall'altezza un dato empirico sull'altezza automaticamente dobbiamo fare un ragionamento che dobbiamo chiederci e giustificare verso terzi perché quelle disuguaglianze siano o non siano accettabili siano o non siano preoccupanti certo rilevare anche l'altezza è importante perché spesso anche gli lavori empirici che vengono fatti mettono in evidenza come ci sia una forte discresia fra disuguaglianze percepite e disuguaglianze effettive quindi qualche numero sicuramente serve però il mio punto di partenza di quello che mi ha mosso a pensare così a questa chiacchierata con voi oggi è quello appunto di dire non ci basta guardare solo all'altezza dobbiamo chiederci il perché e allo stesso modo è assolutamente erroneo ridurre il contrasto alla disuguaglianza al contrasto alla povertà perché perché disuguaglianza e povertà non sono assolutamente la stessa cosa la povertà comunque essa sia definita ne abbiamo già parlato negli anni passati quando ci siamo anche occupati del reddito di cittadinanza quindi sia che la definiamo in termini assoluti sia che la definiamo in termini relativi non mi importa adesso in che modo la definiamo però la povertà riguarda soltanto un pezzo della distribuzione delle risorse dell'opportunità di qualsiasi cosa riguarda la parte bassa quella è la povertà la disuguaglianza invece è qualche cosa di diverso che cos'è la disuguaglianza sono delle definizioni per adesso quindi su queste possiamo essere devo dire ragionevolmente d'accordo perché non sto ancora avendo dei non sto ancora dando giustificazioni per cui questo si può discutere la disuguaglianza se noi guardiamo alla letteratura ci propone se noi ci approcciamo alla disuguaglianza abbiamo sostanzialmente due declinazioni quindi possiamo guardare alla disuguaglianza in termini assoluti e cosa vuol dire c'è un certo livello un certo standard e siamo disuguali se non arriviamo a quello standard esempio tanto per essere più chiara livelli essenziali di assistenza livelli essenziali di prestazioni c'è un livello stabilito se non si arriva a quel livello o sul piano individuale o sul piano pensate disuguaglianze territoriali non importa quale piano ma se non arriviamo a quel livello c'è disuguaglianza amarti a sé in tutti i lavori che ha fatto ad esempio su disuguaglianza in equality o vuote disuguaglianza di che cosa aveva sempre in mente questa declinazione cosiddetta assoluta c'è un livello e io sono disuguale se non arrivo tutte le violazioni dei diritti che hanno a che fare con l'accesso a beni fondamentali per tutti le violazioni sono forme di disuguaglianza rispetto ad uno standard rispetto che quindi evidentemente è chiaro che non è la povertà qua perché io potrei essere non povera ma se io abito in un'area interna potrei soffrire di una profonda disuguaglianza nell'accesso ai servizi da asili nido asili servizi sotto assistenziali e così via quindi sono disuguale perché non arrivo a soddisfare i livelli essenziali questa si chiama declinazione assoluta perché c'è uno standard c'è arrivo o non c'è arrivo abbiamo ovviamente gli indicatori della nostra la realtà di violazioni diffuse di questa dimensione di uguaglianza è molto forte poi c'è invece una declinazione che possiamo definire comparativa qual è la quella comparativa è quella che tipicamente si applica al reddito e alla ricchezza prende tutta la distribuzione e ci dice quanto sono gli ascensori quanto quanto sono ampie le distanze quindi se io prendo un'intera distribuzione tra l'un per cento più povero e l'un per cento più ricco vado a vedere le distanze fra questi soggetti quindi non c'ho una soglia di livelli essenziali di diritti e così via qualsiasi contingente contesto vado a prendere vado a vedere come un certo bene distribuito senza avere nessuno standard in testo e vado a vedere le distanze questo senso si chiama declinazione relativa quanto uno è relativamente distante rispetto al resto della sua della popolazione di riferimento e evidentemente per fare un piccolo esempio per vedere perché penso di averlo reso chiaro perché la declinazione assoluta rispetto a uno standard è quella relativa che invece guarda soltanto alle distanze dentro qualsivoglia distribuzione però per fare ancora un esempio io potrei dire io potrei aumentare il reddito dei più poveri quindi diminuisco la povertà aumenta il reddito dei più poveri ma al tempo stesso la disuguaglianza resta lo stesso ad esempio se io povera e tu ricco abbiamo uno stesso incremento di ricchezza diciamo due abbiamo 100 euro in più è chiaro che io povera magari potrei non essere più povera perché quello mi permette di andare oltre la soglia di povertà ma la distanza ma diciamo la distanza fra il ricco e il povero resta esattamente uguale quindi la disuguaglianza non viene in alcun modo diminuita allo stesso modo se invece io avesse un incremento proporzionale aumenta del 10 per cento il reddito dei più poveri aumenta il 10 per cento il reddito dei più ricchi la povertà diminuirebbe perché il più povero sta meglio ma la disuguaglianza aumenterebbe e quindi solo per dire che non sono la stessa cosa quindi averlo chiaro perché quando noi sentiamo diciamo 2 politici su 10 quello che alla fine si dice dobbiamo contrastare le disuguaglianze e quindi occupiamoci degli esclusi e di chi sta peggio no non è questo sono due cose diverse entrambe importanti ma sono due cose diverse questo sono proprio la pre 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 introduzione per dire siccome ho visto un po' il vostro programma quindi cercavo conoscendo anche un po' le persone di magari non dire esattamente quello che hanno detto gli altri e le altre questo è per come dire una prima introduzione quando noi pensiamo alla disuguaglianza a cosa guardiamo guardiamo a una cosa che è diversa dalla povertà che può essere vista in termini assoluti o in termini relativi e quindi questo già deve essere chiaro e che deve essere valutata non guardando soltanto l'altezza perché l'altezza è semplicemente un'informazione tra le altre detto tutto questo quindi in questo quadro in questo contesto più ampio io prendo una declinazione di disuguaglianza non mi occupo di povertà ce ne siamo già occupati altre volte potremo occupare in futuro speriamo sempre meno che ce ne sia meno ma comunque non mi occupo di povertà mi occupo di disuguaglianza e mi occupo di disuguaglianza nella declinazione più controversa cioè quella relativa perché è chiaro che sicuramente dentro la casa della cultura ma anche oltre in termini più ampi è chiaro che prima face si è più da si abbastanza più d'accordo a dire che se qualcuno non accede ai servizi sanitari essenziali qual tipo di disuguaglianza è sbagliata è chiaro c'è più condivisione su questo invece incominciare a dire che il ricco deve essere tassato e che quindi devi ridurre le distanze cioè ragionare su sulle distanze relative è un pochettino più controverso e quindi io oggi mi occupo di ragionare sull'importanza di ridurre le disuguaglianze le disuguaglianze quelle appunto declinate in termini relativi e in particolare termini relativi reddito e ricchezza quindi proprio quelli più quelli per cui molto spesso ci si viene a dire ah vabbè ma se voi volete ridurre le disuguaglianze di reddito e di ricchezza siete soltanto degli invidiosi dovete occuparvi invece dell'altra dimensione di uguaglianza di far sì che tutti i bambini ci abbiano l'istruzione di fare sì che tutti ci abbiano la salute di servizi sanitari e tutto questo ma quell'altra cosa no quell'altra cosa invece non me ne dovete occupare invece io oggi avete sicuramente ho visto che c'era Fabrizio Barca nelle prime lezioni e quindi sicuramente anche lui avrà parlato di questo però io oggi vorrei nel cuore di questa chiacchierata con voi ragionare su perché è importante ridurre le disuguaglianze relative di reddito e di ricchezza ho essenzialmente due batterie di ragioni la prima batteria ha a che fare con le conseguenze di queste disuguaglianze cioè vado a dire io mi devo noi ci dobbiamo preoccupare delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza se la loro altezza genera delle cose genera delle conseguenze quindi io mi devo preoccupare se si generano alcune conseguenze e quali sono queste possibili conseguenze delle quali preoccuparsi? Beh innanzitutto innanzitutto la prima conseguenza è esattamente la povertà in che senso dico questo non è una incoerente rispetto a prima e che se io prendo sul serio l'obiettivo di contrastare la povertà mi devo occupare della disuguaglianza io non posso contrastare se potrei a me lo mettiamo essere un po meno forte potrei non essere in grado di contrastare la povertà se non mi occupo delle disuguaglianze quindi vedete diverso da come da quello che dice la gente comunemente contrastiamo contrastare la disuguaglianza vuol dire contrastare la povertà io quello che sto dicendo è per contrastare no non è così ma proprio per contrastare la povertà tu devi fare quella cosa che non vuoi fare cioè devi contrastare le disuguaglianze l'ho già citata altre volte chi c'era già troverà ripetitiva ma mi sembra che non ho mai non ho trovato modo migliore e lo ridico ancora una volta oggi non ho mai trovato modo migliore di rappresentare questa posizione se non a facendo riferimento alle parole del socialdemocratico tonei e tonei nel suo libro equality su degli anni negli anni d'oro 40 anni dopo guerra e quello che lui questa frase che lui disse è quello che i ricchi chiamano il problema della povertà i poveri richiamano il problema della ricchezza e cosa vuol dire vuol dire che c'è complementarità fra ricchezza e povertà che perché perché se c'è una parte di valore aggiunto che tutti insieme produciamo quella parte lì qualunque sia le sue dimensioni sia che cresca sia che non cresca se una parte se ne prende sembra molto banale ma è così se una parte se ne prende tanta vuol dire che gli altri se ne prendono poca e quindi c'è una interdipendenza una interrelazione fra povertà e ricchezza allora adesso dovrei riuscire proprio sono pochissimi questi grafici però ecco qui forse lo dovreste vedere fra poco questo è un grafico molto semplice ma che però è abbastanza interessante un dato dell'oxx che ci fa vedere come per trentuna paesi quello che è capitato è capitato che eh tanto all'interno del della parte del reddito che va al lavoro quindi quindi a prescindere anche dalla parte del reddito che va al capitale che è aumentata se noi andiamo a vedere che è cos'è stata cioè fatta fa la siamo data la torta di reddito che va al lavoro quello che noi vediamo a partire da metà degli anni novanta eh e questo riguarda trentun paesi ocse principali che cosa è capitato che di questa porzione che va al lavoro la ehm parte diciamo in questo caso la parte più povera che è esattamente questa quindi venticinque per cento più povero della popolazione che sarebbe questo indicato qua il first quartile quindi il venticinque per cento questo che sta qua cerca di quel nero più basso se ne è preso sempre di meno cioè se prima eh partivano eh partivano da una posizione data nel novantacinque del reddito del valore aggiunto che va al lavoro che diventa il reddito da lavoro e che quindi va a tutte le persone le persone più povere hanno il venticinque per cento più povero ne ha preso sempre meno e questo è il venticinque per cento più povero e quindi lì dentro c'è anche una bella eterogeneità nel complesso un quarto dei lavoratori ha preso molto di meno rispetto a quello che avrebbe che ha preso prima che prendeva prima quindi c'è stata questa forte decrescita rispetto alla quota che di reddito che va al lavoro questo rosso è la ehm è quello che va nella quota che va a diciamo al lavoro ai lavoratori mediani quelli che stanno a metà anzi no al medio al lavoratore medio e che cosa vuol dire a questo vuol dire che sostanzialmente nonostante che ci sia stata crescita in questi anni dal novantacinque questo grafico fino a poco dopo insomma a metà degli anni duemila e eh duemila di insomma duemila tredici duemila quindici che cosa ci fa vedere ma anche per gli anni più recenti è così che cosa ci fa vedere che nella media il lavoro il lavoratore medio non ci ha guadagnato è rimasto nonostante che ci sia stata crescita non ha guadagnato assolutamente niente questa invece sono è stata la parte che è stata presa dal venticinque per cento diciamo dalla dal settant dai lavoratori che sono compresi fra il lavoratore medio e il lavoratore che si situa al settantacinquesima posizione se ci fossero questo grafico non li riporta i dati per il vento per quelli insomma per il top venticinque per cento evidentemente se ne prenderebbe ancora di più ma qual è il punto semplicemente che io volevo fare vedere punto forte che io volevo fare vedere e che c'è stato diciamo c'è questa interrelazione da una torta alcuni ne prendono di più se alcuni ne prendono di più e la disuguaglianza cresce altri ne prendono di meno c'è interrelazione fra questo cioè non posso vedere al problema della povertà come se fosse staccato dalla disuguaglianza tu prendi meno stai qua e i poveri stanno ancora più sotto perché quegli altri stanno qua e quindi c'è una interrelazione fra le due situazioni chissà per commesso questo questo lo vediamo perché sarebbe dovuto essere subito dopo ma lo ritroviamo subito questo ancora più interessante è un po piccolino forse ma non lo dico con le parole in ogni caso poi questi quattro grafici per chi è interessato anche mandati alla casa della cultura quindi ci sono questo grafico dell'inps ma lo rivediamo anche c'è un lavoro dell'inps fatto da raitano ed altri e che cosa ci dice questo lavoro questo è per l'italia ci fa vedere i lavoratori che hanno una posizione all'inps lavoratori quindi parte dipendenti che stanno dentro l'inps che cosa ci fa vedere questo che questo parte addirittura dal 65 arriva di nuovo verso il 2015 che cosa ci dice ci dice che fatto pari a 100 il la retribuzione che si aveva a metà degli anni sessanta il questa riga blu questa questa qua che io sto cercando di segnare la più bassa la riga blu è l'andamento delle retribuzioni del 10 per cento più povero p10 vedete qua sotto della persona e quindi che cosa dite siamo cresciuti in dettaglia poco ma qualche cosetta siamo anche cresciuti siamo passati da qui e anziché avere un po di più siamo scesi qua questo questa qui arancione mi rappresenta la situazione del 25 sembra distribuzione fatta pari a 100 di sicco di dei lavoratori che si collocano più o meno al venticinquesimo percentuale questo è il 50 quindi in italia anche il lavoratore mediano non ha in tutto questo periodo dal 65 fino al 2015 non ha guadagnato alcunché questa è la la cosa rosa scusate dal tonica gialla e ci dice il 75 per cento e questo qua il 90 al 95 è più complicato trovare poi i redditi ma sui lavoratori quelli ancora più ricchi però ci sono dei dati interessanti adesso io non vado nel dettaglio perché non volevo dare troppi numeri oggi ma per chi è interessato il rapporto dell'inps non di quest'anno che pure interessante per altre cose ma dell'anno scorso liberamente scaricabile in rete ci dà dei dati insomma entra nel dettaglio di questo appunto io oggi voglio ragionare di voglio discutere con voi di ragioni e non troppi numeri però solo per mettere più chiaro il diciamo questa situazione che mi sembra come dire per farvi vedere che appunto esiste una correlazione molto forte tra quello che prende uno e quello che prende l'altro come diceva tone il problema dei poveri e anche il problema quello i poveri lo vedono come un problema dei ricchi i ricchi prendono parecchio ok questo era semplicemente il un primo punto che mi sembrava essere importante quindi se io voglio contrastare la politica il poco di reddito e di retribuzioni non parlo neppure poi di chi non lavora ma le basse retribuzioni di chi lavora devo proprio tanto un determinato valore aggiunto devo avere una distribuzione del reddito più equa quindi mi devo occupare di ridurre queste disuguaglianze non c'è altro modo quindi difficile pensare di contrastare questa situazione se io non mi occupo anche di quest'altra c'è un'interdipendenza molto forte e secondo me noi spesso questa interdipendenza invece non la vediamo questa quindi in proprio in via molto diretta se uno dava una torta possiamo dire anche cresciamo come se ci sentiamo dire dobbiamo crescere sì benissimo cresciamo è importante per l'Italia crescere ma esiste un problema di distribuzione tutti i paesi industriali avanzati che sono cresciuti molto hanno questo problema negli ultimi vent'anni e quindi bisogna occuparsi con le cose di cui si cura tra l'altro di cui vi parla il mio caro amico Lorenzo Sacconi anche amico di Ferruccio anche occuparsi di predistribuzione quindi di come si distribuisce quel reddito che insieme tutti quanti produciamo questo però non è tutto nel senso che voi potreste dirmi ok lei ha fatto riferimento a come si distribuisce nel mercato il valore aggiunto che tutti insieme produciamo però ok magari come tanti ci dicono ce lo sentiamo dire ma il mercato va così la globalizzazione la tecnologia va così quello che è importante è che poi se noi siamo interessati alla povertà e che poi alla fine ci sia un intervento ex post di contrasto della povertà e che quindi alla fine le persone che restano povere sul mercato abbiano degli interventi ci sentiamo dire ad esempio che i lavoratori poveri abbiano delle le forme di crediti di imposto per i lavoratori poveri di integrazione del salario e così via quindi che ci sia una forma di integrazione la mia la la risposta a questo è che potrei questo di nuovo stiamo parlando di possibili ragioni di preoccupazione e che la se siamo in un contesto dove c'è molta disuguaglianza primaria molta disuguaglianza nella distribuzione primaria dei redditi quella a cui ho fatto primo riferimento potrebbe esserci anche associato un fenomeno forte di segmentazione territoriale e sociale i ricchi vivono con i ricchi i poveri vivono con i poveri già Tocqueville nell'ottocento aveva quando era andato in america ed era rimasto stupito di quelle condizioni già Tocqueville aveva rilevato questo problema che infatti ogni tanto viene chiamato oggi il problema di Tocqueville perché aveva messo in evidenza come fosse importante che ci sia una correlazione fra le condizioni tipiche normali di vita e quello che poi la gente riesce effettivamente ad avere sotto profilo distributivo per dirlo ancora meglio è che quando ci sono forti disuguaglianze sociali territoriali e così via il rischio è che la conoscenza degli altri venga sempre meno l'empatia nei loro confronti ciascuno vive nelle proprie recluse non c'è più nessuna forma di interazione gli uni con gli altri e questo ci si vede più ricchi si costruiscono il loro mondo le loro città il servizio sanitario il loro il loro mondo non ci si vede più con gli altri e quindi diventa più difficile anche contrasta la povertà e non solo quando ci sono questi studi che proverebbero questo che il rafforzamento della ideologia meritocratica del mercato si è avuto e si sta avendo proprio collacuirsi delle disuguaglianze di mercato cosa voglio per dirla meglio che quando ci sono diciamo che la disuguaglianza quando si crea per un meccanismo forse circolare favorisce la legittimazione stessa delle disuguaglianze il povero viene sempre più costruito come non meritevole e il ricco viene costruito come meritevole cioè a un certo punto c'è una tendenza a legittimare lo status quo da parte di chi ha vinto e è interessante andare a vedere come i con ci sono diversi studi empirici anche su questo c'è un bel lavoro uscito da questi questa sociologa lister per la gran bretagna ma che da anche dei dati sull'europa interessanti e come il convincimento nella meritocrazia della distribuzione di mercato come sia giusto quello che io prendo sul mercato sia molto cresciuto a partire dagli anni 70 cioè fino agli anni 70 sì insomma un po' di disuguaglianze vanno bene ma non queste disuguaglianze così forti e poi invece è molto cresciuto e più cresce questo più evidente più il povero visto come non meritevole ricco come meritevole più diventa anche complicato avere un consenso per intervenire a favore dei più poveri in più se c'è molta segmentazione territoriale rischi adesso faccio vado troppo la faccio un po semplice anche perché ma perché vedo che il tempo passa e c'è ancora un po di parecchie diverse cose da dire se c'è segmentazione territoriale abbiamo un clave di povertà e così via diventa anche più difficile contrastarla perché il calremo è quello di situazioni di periferie marginate e così via e quindi anche se il punto è anche se io sono interessata alla povertà mi devo occupare di disuguaglianza perché ci possono essere tutte queste ragioni che frenano l'intervento a favore dei più poveri i dati empirici qui atkinson rilevano come in tutti i paesi ci sia una correlazione molto forte aumento della disuguaglianza e povertà l'unica c'è un'eccezione è la svizzera però per tutti gli altri paesi avanzati c'è questa correlazione molto forte e quelle che io appena detto sono possibili ragioni che stanno dietro questa correlazione che c'è un'altra è un ragionamento abbastanza simile un'altra ragione diciamo un'altra ragione per preoccuparsi della disuguaglianza e che la disuguaglianza di nuovo di reddito di ricchezza potrebbe limitare anche la possibilità di raggiungere l'uguaglianza di opportunità intergenerazionale cioè il contrasto della lotteria sociale quindi mentre prima parlavo dei poveri soltanto adesso mi occupo invece di una dimensione più dinamica della valore da tutti condiviso articolo 3 anche della nostra costituzione che tutti possano a prescindere da dove sono nati possono avere le stesse opportunità di perseguire i propri piani di vita quindi che l'origine sociale non sia così determinante allora di nuovo questo qui è l'ultimo grafico credo che se penso di sì che vi faccio vedere condividiamolo eccolo qua questo è un grafico molto famoso hanno il penultimo grafico ed è questo questo è l'ultimo penultimo grafico appunto che ha il nome un nome carino divertente che è il nome della che viene chiamato la curva del grande Gatsby chi era grande Gatsby lo sappiamo tutti e perché la ragione per cui questa curva è stata così chiamata è che questa curva che cosa fa cosa ci mette in questo grafico che cosa mette in evidenza mette in evidenza il rapporto fra la disuguaglianza qua la vediamo in ascissa in common equality misurata con un coefficiente di Gini ma non entriamo nel dettaglio la disuguaglianza e ovviamente più il numero è alto più c'è disuguaglianza quindi i paesi che sono un Gini di 0,25 vuol dire bassa disuguaglianza 0,50 vuol dire alta disuguaglianza quindi è ordinato più aumenta più c'è disuguaglianza e questo invece in ordinata è un altro indicatore che si chiama elasticità intergenerazionale dei redditi e quindi che cosa cerca di mettere in evidenza questo grafico? mette in evidenza il rapporto la relazione che esiste fra distribuzione del reddito e questo è un indicatore di mobilità sociale di diciamo l'elasticità come diciamo più precisamente questo indicatore correla il reddito dei figli a quello dei padri c'è correlazione fra il reddito dei figli e il reddito dei padri poi adesso effettivamente è così dei padri e non delle madri perché i dati sono più disponibili per i padri perché poi c'è da andare indietro quando uno deve andare a vedere la mobilità sociale deve più dare i redditi dei padri dei figli quindi ci vuole un orizzonte temporale ampio e quindi una volta lavoravano più genitori i maschi e quindi e adesso non entro nel dettaglio di questo indicatore però il punto è qua in Ascissa abbiamo la distribuzione corrente oggi quanta disuguaglianza nel reddito c'è oggi e in ordinata abbiamo c'è relazione fra il reddito dei padri e il reddito dei figli ultima leggenda cosa importante è che qua abbiamo i redditi quindi qua abbiamo tutto il reddito da lavoro e da capitale e qua abbiamo earnings earnings sono soltanto i redditi da lavoro e questo è molto importante perché voi potreste dirmi che abbastanza in particolare nei paesi industriali avanzati potreste dirmi che c'è poca tassazione dell'eredità e che quindi c'è una correlazione nei redditi da capitale tra padre e figlio perché ma qua invece c'è addirittura da lavoro io dovrei essere più mobile rispetto al lavoro almeno sul lavoro non tanto sul capitale ma almeno sul lavoro e invece niente allora questo quindi mi dice earnings e qua mi dice la disuguaglianza nei redditi questo cosa ci dice questo grafico ci dice qualcosa di non che probabilmente non pensavamo no se voi pensate le famose parole di Blair non mi interessa la disuguaglianza nei redditi mi interessa la mobilità sociale a Blair gli interessava solo questo ma non gli interessava quello cosa gli dice Miles Korak e la curva del grande gaspi mi dice caro guarda che se tu sei interessato a questo devi anche occuparti forse di questo perché perché noi vediamo una correlazione molto forte quali sono i paesi che hanno un indicatore più elevato quindi hanno più disuguaglianza qua sono quelli che hanno più vedete crescente questa curva sono quelli che hanno più disuguaglianza corrente i paesi dove c'è più disuguaglianza nei redditi diciamo questo sono anche i paesi che hanno più disuguaglianza intergenerazionale e quindi c'è una correlazione molto forte fra questi due fenomeni e per questo si chiama la curva del grande gaspi si chiama la curva del grande gaspi perché evidentemente il grande gaspi rappresenta il fallimento del sogno americano nasce povero diventa ricco e ricade tremendamente povero in difficoltà e questa curva di Korak è esattamente rappresentativa di questa situazione negli Stati Uniti vedi non c'è questa mobilità sociale che uno pensava ci fosse c'è una bassa mobilità sociale e invece dov'è che i paesi che hanno più mobilità sociale i paesi che hanno più mobilità sociali anche se adesso lì la disuguaglianza sta molto aumentando quindi non la farò più io fra vent'anni questa lezione ma se dovessi ancora farla magari vedremo qualche cosa di diverso però oggi come oggi voi vedete Norvegia Danimarca Finlandia un po' meno la Svezia ma questo trio qui i fantastici tre hanno una bassa disuguaglianza nei redditi perché hanno i gini fra i più bassi stanno esattamente qua e hanno una bassa disuguaglianza intergenerazionale allora questo grafico ci dice beh se anche io non volessi preoccuparmi della disuguaglianza nei redditi di questa non posso fare come ci diceva Blair di occuparmi solo di questo perché il rischio è che se io non mi occupo di questo non riesco neanche poi a occuparmi di mobilità sociale e questo mi sembra di nuovo un altro tema interessante che mette in evidenza l'importanza di occuparsi della disuguaglianza quali sono le ragioni adesso oggi non posso fare una lezione sulla disuguaglianza di opportunità intergenerazionale questo chi di voi fosse esperto potrebbe dirmi che l'indicatore che ho utilizzato quello sulla elasticità intergenerazionale un indicatore aggregato che c'è qualche problema di dati che è una correlazione piuttosto che una relazione di causalità cioè ci possono essere tutta una serie di dettagli però adesso non ho voglia di andare in questi dettagli e mi interessava però mettere bella fuoco questo perché noi spesso ce lo sentiamo dire e torniamo alla politica oggi ce lo sentiamo dire no ma il problema è la povertà il problema è l'uguaglianza di opportunità intergenerazionale la mobilità sociale l'ascensore bloccato sì certo è vero che il problema tutti che ci vogliano cinque generazioni per un ragazzo che nasce nella parte più bassa della distribuzione ad arrivare ad avere il reddito medio come ci dice l'Ocse è una tragedia è vero è verissimo tutto questo ma per fare quello dobbiamo mettere in discussione la distribuzione complessiva dei redditi quindi quanto abbiamo anche noi che abbiamo più soldi rispetto agli altri non possiamo pensare di risolvere quella di affrontare quella questione guardando soltanto a loro dobbiamo guardare a noi tutti e cambiare perché se no non si può fare non c'è modo anche qua le ragioni per la quale la disuguaglianza può essere fattore di disuguaglianza nei redditi può essere fattore di immobilità sociale sono plurali hanno a che fare di nuovo con le risorse familiari in particolare con l'istruzione perché l'istruzione è un bene anche posizionale il cui valore dipende da quanto ne hanno gli altri e quindi se io ne dopo più i poveri chi è più ricco subito c'ha il modo per venirne fuori e manda a fare un ennesimo corso fuori per segnalare la capacità maggiore dei propri figli e così via e quindi dobbiamo di nuovo c'è un problema di indebolimento della sostenibilità a redistribuire perché non ci conosciamo e non solo per quello c'è un fenomeno che secondo me è poco studiato ma che è interessante che l'ha messo in evidenza un sociologo americano che si chiama Alba ed è il seguente quando c'è molta disuguaglianza e la disuguaglianza prende un po' la forma della polarizzazione per cui abbiamo pochi ricchi poi i ceti medi si svuotano cosa che sta capitando nei nostri paesi con sempre maggiori difficoltà per i ceti medi anche diventa quando c'è questa disuguaglianza primaria che vedi i ceti medi stare peggio il sostegno alla redistribuzione da parte dei ceti medi che sono anche fondamentali perché per pagare le imposte per garantire l'uguaglianza di opportunità viene a crollare perché già l'uguaglianza di opportunità che noi citiamo come un obiettivo come dire non problematico è molto problematico perché vuol dire che un genitore deve sapere che non deve aiutare il proprio figlio e che il proprio figlio noi molto spesso tendiamo a guardare alla mobilità sociale solo come mobilità scendente è una bella cosa perché tutti salgono ma potrebbe essere che tanti scendano dire mobilità qualcuno sale qualche altro scende quindi già complicato come obiettivo da realizzare e quando tu genitore genitrice di ceto medio che vedi già che il mondo diventa così complicato per i tuoi figli ti arrocchia quello hai paura di andare ad aiutare chi sta peggio di te perché diventa un mondo già così complicato per difendere i figli tuoi che diventa più difficile favorire un'uguaglianza di opportunità per chi sta un po' peggio di te di mobilità sociale in questo caso per chi sta un po' peggio di te e quindi vedete quando la distribuzione diventa più disuguale il consenso anche per effettuare le politiche che sono necessarie per garantire uguaglianza di opportunità rischia di essere minore non a caso l'abbiamo visto in quel grafico i paesi dove c'è questa correlazione maggiore quali sono i paesi più uguali? sono i paesi scandinavi lì c'è quest'altro titolo carino di un articolo che si chiama il moltiplicatore di uguaglianza di quality multiplier non quello che ne si hanno ma quello di uguaglianza e ci dice che c'è questa correlazione che laddove le condizioni di vita l'ho già anche citato prima sono più uguali e più facile fare politiche esposte che cercano di rimediare ai problemi che ancora esistono quando invece come società ci sfaldiamo diventiamo sempre più disuguali e quegli obiettivi diventano sempre più complicati da raggiungere e d'altro canto come spiegare altrimenti che noi abbiamo tutta questa povertà ad esempio nei bambini tutta questa disugualità se questi obiettivi sono obiettivi così condivisi come si fa a dire che ad esempio chi nasce da una famiglia povera non può avere le stesse chance di un altro sembra che sia la base non dico della socialdemocrazia ma della liberaldemocrazia eppure non lo facciamo perché non lo facciamo? perché fare questa cosa non è così facile vuol dire mettere in discussione la distribuzione complessiva dei redditi e delle ricchezze e quindi molte persone non sono pronte a metterla in discussione perché se non avessi questo, non ci fosse questa cosa da fare bisognerebbe, è talmente intuitivo doversi occupare dell'uguaglianza intergenerazionale perché non lo si fa? non lo si fa perché ci mette in discussione tutti quanti e tanti no due altri effetti negativi delle conseguenze negative quali sono? sono ad esempio ne abbiamo forse già parlato altre volte non me lo ricordo quindi le disuguaglianze di reddito e di ricchezza sono un ostacolo al contrasto alla povertà sono un ostacolo al contrasto della disuguaglianza intergenerazionale non ci permettono ci rendono più complicata per diverse ragioni e perché hai tanto di più da fare perché il mercato e la società creano quelle profonde disuguaglianze e povertà e ti manca sempre più la sostenibilità politica per farlo quindi te lo rendono più complicato per questo ma la disuguaglianza di reddito e di ricchezza solo ha quelle due conseguenze negative è difficile contrastare la povertà è difficile garantire l'uguaglianza di opportunità ma potrebbe come ad esempio ci ricorda Marmot potrebbe anche avere degli effetti negativi sulla salute il lavoro di Marmot che forse voi conoscete la salute disuguale ci dice esattamente questo ci fa vedere come la disuguaglianza di reddito e di ricchezza sia correlata a una disuguaglianza di salute molto interessante faccio così come un piccolo esempio tanto per passare a qualcosa di più concreto che forse rende più chiara la riflessione lui fece questo studio molto famoso facendo vedere come nel ministero Whitehall, quindi degli interni a Londra a seconda del tipo di come uno si collocava nella distribuzione del reddito si muovevano le attese di vita chi stava più in basso aveva attese di vita più basse un po' più in alto aveva attese di vita relativamente meno basse fino a chi stava più in alto ancora che aveva ovviamente in media attese di vita più alte e quindi non vedete non era solo povertà era proprio disuguaglianza intera distribuzione del reddito e correlazione con le attese di vita ho pure fatto anche questo studio molto interessante e carino sulla fermata di Londra che faceva vedere come a ogni fermata di metropolitana verso est a Londra le attese di vita delle persone diventavano più basse quindi una per una sempre più basse ma anche dei lavori più interessanti su Roma hanno fatto eccetera eccetera quindi la disuguaglianza fa male anche alla salute e la disuguaglianza economica evidentemente fa malissimo alla democrazia perché già lo sapevo da sempre diciamo dagli albori del pensiero democratico è sempre detto la democrazia funziona se le disuguaglianze di ricchezza e di reddito non sono tali da influenzare il funzionamento della politica su questo ci sono pieno di lavori soltanto due cose voglio dire e che l'influenza non è soltanto un'influenza nel far passare le cose che i più ricchi desiderano ma anche nell'impedire quel cosiddetto concetto di policy drift nell'impedire che alcune politiche che invece sono politiche favorevoli a chi sta peggio vengano passi quindi questo primo blocco di argomentazioni non lo so se magari possiamo fare una piccola break su questo perché vi dico come sarebbe perché io non ho il polso continuo a parlare io e magari siete tutti un po' addormentati e vi ho addormentato tranquilla a te ti vedo Ferruccio però di te sto tranquilla allora possiamo fare due cose questo primo blocco allora quello che ho fatto finora lo riassumo così ho cercato di dare qualche micro iniziale definizione disuguaglianza verso povertà e declinazioni diverse di disuguaglianza dato questo ci siamo concentrati sulle disuguaglianze nella declinazione relativa di reddito di ricchezza e abbiamo detto che queste disuguaglianze non dobbiamo guardarle e criticarle guardando soltanto alla loro altezza ma dobbiamo guardare invece ad esempio a se generano delle conseguenze che reputiamo ingiuste e le disuguaglianze economiche di reddito di ricchezza possono generare delle conseguenze che reputiamo ingiuste quali ci rendono più difficile il contrasto alla povertà ci rendono più difficile la realizzazione di disuguaglianza intergenerazionale di opportunità rischiano di accentuare le disuguaglianze nelle attese di vita possono avere effetti negativi sulla democrazia oltre che vabbè sullo star bene così quindi queste sono delle conseguenze negative se prendo per buono allora il sorriso di ferruccio vado ancora un po' avanti accanto a questo blocco di conseguenze negative le disuguaglianze di reddito di ricchezza possono preoccuparci perché sono ingiuste in sé allora questo è un punto più radicale infatti non è condiviso da tutti i filosofi ad esempio Frankfurt uno fra questi è un famoso non lo condivide tanti altri lo condividono Rawls sicuramente lo condivide allora qual è l'idea qua? è che anche se non ci fosse la povertà non ci fossero tutti i problemi che ho appena detto le disuguaglianze che si producono nei mercati in senso lato nel settore pubblico, nell'economia diciamo così le disuguaglianze che si verificano nell'economia potrebbero essere inaccettabili sotto un profilo di giustizia a prescindere dalle conseguenze ma soltanto perché sanciscono una distribuzione del valore aggiunto che è iniqua che individui diciamo che appare iniqua e che quindi ci crea dei problemi in sé a prescindere quindi dalle conseguenze allora perché? essenzialmente questo tema che mi appassiona perché i mercati io faccio questa sintesi così rapida sono in gran parte il regno del caso e del potere i mercati distribuiscono premi e penalizzazioni sulla base del caso e del potere distribuzioni basate sul caso fortuna e sfortuna oppure basate sul potere potrebbero essere ingiuste perché non è detto che io ho un titolo valido negli effetti del caso se ho detto sono sfortunata per quale ragione devo essere penalizzata e tu invece devi essere invece premiato e al tempo stesso la distribuzione di potere potrebbe essere ingiusta certo che il potere è evitabile c'è sempre il potere però l'importante è penalizzarlo prenderlo il più eco possibile e non è detto che il mercato deve essere regolato appropriatamente per fare questo allora mercato come regno del caso voglio darvi due citazioni che io trovo veramente molto carine una è di Knight e Knight diceva nel mercato le attività più vitali diventano prive di valore se offerte in sovrabbondanza e la prestazione più banale diventa estente e preziosa se sufficientemente unica e rara o nei termini di Folbre economista e femminista il gioco di mercato assomiglia a una barca che solca l'oceano alcuni equipaggi e membri dell'equipaggio sono certamente più abili degli altri ma il loro successo è modellato dai venti dalle maree dagli iceberg dalle tempeste prevalenti non facilmente prevedibili allora come sono delle frasi molto carine queste e cosa dicono? ci dicono che il mercato alla fine distribuisce premi e penalizzazioni a base della domanda e dell'offerta se voi fate un normalissimo grafico domanda e offerta qui c'è la domanda qui c'è l'offerta se di colpo l'offerta dovesse diminuire la cosa che io ho diventerebbe più preziosa se invece tutti offrono c'è una sovrabbondanza di una cosa che tutti desiderano quella cosa lì non diventa più così importante una allo stesso modo io posso essere una persona bravissima a una certa attività ma se ne sprezza quello che io faccio oggi non prendo nulla poi magari domani la domanda cambia io faccio la stessa cosa e prendo tutto Van Gogh avesse vissuto un po' di più sarebbe diventato vecchissimo solo per fare un esempio quindi c'è una forma di casualità di erraticità di singolo di quello che prende l'operario della Fiat degli anni 60 prendeva di più di quel poveretto che vediamo quello che stava nella linea blu del decimo lavoratore più in basso perché trovava in un contesto diverso di offerte di domande di lavoro non c'era globalizzazione ad esempio ma le sue capacità il suo lavoro la sua dedizione il suo sforzo è esattamente lo stesso in montagna visto che in Vale Aurina mi piace ci sono queste vecchie miniere di rame queste miniere di rame fino all'inizio del novecento davano da lavoro e di vita alle persone che lì abitavano di colpo scoprono il rame in America costa meno entrare il rame in Sud America e quelle miniere chiudono con gli operai che restano senza lavoro erratico quindi c'è un sacco di caso nel mercato e questo va preso in considerazione non è che noi siamo più bravi è un sacco di caso dipende molto appunto dal contesto in cui noi ci troviamo e questo deve essere preso l'ideologia meritocratica evidentemente non prende l'assiderazione i mercati però questo aspetto che per il singolo è casuale e che diciamo è questo elemento di casualità scusate si accompagna però anche a elemento del potere faccio un esempio poi dopo ritorno ho fatto l'esempio prima della globalizzazione apri i mercati il rame costa meno produrlo in un certo modo quell'operaio perde sembra che di colpo la domanda per il suo lavoro cessi e il poveretto si abbassa la domanda e lui resta scuro però come noi siamo globalizzazione cambiamento tecnologico eccetera non sono dati naturali dipendono anche dalle politiche ad esempio un esempio molto molto evidente che perché si è così indebolito il potere del lavoro il potere del lavoro si è indebolito perché per tante ragioni anche perché sono state fatte politiche di deregolazione di vario tipo eccetera ma anche perché è deciso di deregolamentare il mercato dei capitali quindi quella globalizzazione non è nata dal cielo così è nata perché qualcuno ha deciso che i mercati dei capitali che prima erano chiusi si sono aperti è un capitale che può andarsene ovunque è un potere di minaccia che indebolisce fortemente il potere del lavoro e quindi il mercato è anche il regno del potere cosa prende uno cosa prende l'altro dipende dalle regole del gioco e le regole del gioco sono regole che rischiano di che rischiano che potrebbero diciamo quelle di oggi sicuramente sì lo direi io però se dobbiamo fare un discorso generale che vanno prese le disuguaglianze che si producono nel mercato vanno valutate sulla base di principi di giustizia perché sono in parte casuali in parte dovute come si distribuisce il potere anche nei mercati questo è un punto carino anche nei mercati di concorrenza perfetta se c'è qualcuno di voi che ha avuto formazione più di giovani economista anche nei mercati di concorrenza perfetta dove la prima cosa che voi studiate in un libro di economia è che i mercati di concorrenza perfetta non hanno potere perché chiunque può entrare e competere tranquillamente gli uni con gli altri anche i mercati di concorrenza perfetta si sono basati sul potere perché sono basati sul potere un po' per queste ragioni che i confini del mercato non è dato quindi a seconda della globalizzazione qualcuno ha più potere o meno a seconda che il mercato sia piccolo o sia grande ma oltre a questo perché inevitabilmente il mercato richiede che qualcuno una definizione dei diritti di proprietà la definizione dei diritti di proprietà coinvolge sempre la individuazione e l'attribuzione a un soggetto di poteri come ricorda Ferraioli molto spesso i diritti di proprietà sono diritti che non hanno solo a che fare con la libertà non sono solo diritti di libertà come potrei dire come l'opinione come andare in chiesa come una libertà religiosa non sono soltanto diritti di libertà ma sono diritti che coinvolgono la possibilità di interferire con le sfere giuridiche altrui cioè vuol dire potere sempre tanto per rendere più chiaro il discorso un esempio che è carino ne parlavo questa mattina Ipi Thompson questo famoso storico tedesco inglese in quel bellissimo lavoro che si chiama Moral Economy or English Crowd tranquillamente scaricabile quindi l'economia morale della folla inglese ha messo in evidenza come fino ad esempio al 600 fosse di fatto vietato ma non vietato per la legge ma come costume come norma sociale fosse vietato fosse lo dico meglio fosse fatto fosse vietato mettere da parte il grano cioè dire i proprietari terrieri raccoglievano il grano e dovevano portarlo immediatamente sul mercato e poi i contadini se lo compravano lo mettevano da parte lo facevano le facevano farina e così avevano il pane durante l'anno di colpo in emergere il capitalismo che cosa capita che invece questa consuetudine viene messa in discussione e come viene messa in discussione si dà il proprietario terriero si prende il diritto di immettere come diritto di proprietà di mettere sul mercato il grano quando lui desideri e che cosa è capitato così è capitato che a questo punto si sono creati dei cosiddetti shortage dei blocchi dei razionamenti per cui non l'ha messo sul mercato per un po' e ovviamente quel poco che c'era aveva un prezzo molto alto e vi ricordate tutte le guerre del pane in quel periodo nascevano anche da questo dal fatto che il diritto di proprietà che stava modellandosi sulla base di attribuire al proprietario il potere di immettere il grano sul mercato nel momento in cui desiderava e quindi poteva in qualche modo influenzare il livello dei prezzi e questo è e questo era un mercato di sostanzialmente concorrenza non era un mercato monopolistico e così via quindi questo è un punto importante e poi la famosa frase anche questa sempre dell'inglese che mi piace molto adesso la rileggo l'organizzatore dell'industria che pensa di aver fatto se stesso la sua attività ha trovato un intero sistema sociale a portata di mano in lavoratori qualificati macchinari un mercato pace e ordine un vasto un vasto apparato e un'atmosfera pervasiva la creazione congiunta di uomini e decine di generazioni togli tutto il fattore sociale e non abbiamo Robinson Crusoe col suo salvataggio dal relitto la sua conoscenza acquisita ma il selvaggio nativo che vive di radici va e parti e cioè dire che quello che quel imprenditore che pensa di aver fatto tutto da sé e quindi di avere il diritto di prendersi tutto quello che il mercato gli dà in realtà è stato anche bravo ma molto dipende dal lavoro di squadra di tutto quello che è stato creato dalle persone attorno a lui oltre che dalle generazioni precedenti allora e questo e se questo è vero nei mercati di concorrenza perfetta figuratevi i mercati di oggi che sono mercati assolutamente lontani dalla concorrenza perfetta che sono mercati dominati sostanzialmente da una fortissima concentrazione di potere mercati dove come si dice il vincitore prende tutto quasi tutto mercati con superstar dove l'insieme di importanza di una conoscenza che è tipicamente un bene indivisibile che quindi ha economie di scala molto forti pensate un algoritmo lo invento e poi dopo quando lo utilizzo il costo marginale è zero essenzialmente quindi io se metto insieme questo con il fatto che poi dopo posso andare a vendere il mio bene in tutto il mercato globale è chiaro che in questo tipo di situazioni più pensiamo ancora alla parte sono brevetti eccetera è chiaro che in contesto come mercati attuali dire che uno si merita quello che prende e che quindi io non devo indagare sulla giustizia di quegli esuguaglianzi di mercato mi sembra abbastanza difficile a sostenersi ultimo punto sempre anzi sto anche avviando poi a concludere il ho parlato di mercati ma appunto come già ci dice il già citato nostro amico Lorenzo Sacconi i mercati sono popolati da imprese mercati cioè l'idea l'economia parla poco di imprese non guarda dentro l'impresa l'impresa come se fosse una funzione di produzione un soggetto sostanzialmente ma le imprese sono gli attori che operano sul mercato e le imprese sono governi privati che come tutti i governi operano sulla base di meccanismi gerarchici di potere mercato è un conto se noi abbiamo l'idea concorrenza perfetta abbiamo già detto il pane ma quantomeno c'è uno che vende un bene e l'altro che lo compra ma l'impresa l'impresa è di per se stesso un'organizzazione gerarchica e dove c'è gerarchia c'è potere è ovvio intrinseco alla nozione stessa e quindi se c'è potere occorre occuparsi del se la distribuzione del potere in quell'impresa è giustificabile sotto un profilo equitativo e quindi anche l'impresa deve essere come avete già visto penso nella lezione del ciclo precedente deve essere oggetto di valutazione di giustizia e sicuramente negli ultimi anni abbiamo assistito a cambiamenti importanti nella struttura delle imprese anche nei meccanismi di governance delle imprese che suscitano molte molte preoccupazioni sotto un profilo di giustizia pensate ad esempio faccio solo questo esempio a tutta la tendenza verso le esternalizzazioni a un'economia che non è più un'economia di imprese verticali che avevano anche loro problemi di potere non è che Valletta o a tempi Romiti Valletta la Fiat non avesse problemi di potere ma erano imprese gerarchiche adesso con le esternalizzazioni abbiamo la ricerca messa insieme di esternalizzazioni massimizzazione del valore degli azionisti capitalismo finanziario insieme questa miscela abbastanza terribile per cui alla fine il valore il lavoro viene sempre più svalutato e questo è un grafico l'ultimo grafico che vi faccio vedere che è un grafico molto carino che viene chiamato il grafico del sorriso non so se l'avete mai trovato questo grafico del sorriso grafico del sorriso perché vedete che sembra un vero sorriso allora ci fa vedere come il valore aggiunto viene distribuito nelle grandi imprese multinazionali che sono delle catene globali del valore quindi grandi grandi imprese che operano in tutto il mondo e pensiamo un'amazon più ma le grandi imprese sostanzialmente ed è carino perché quando noi eravamo in un periodo fino al 1970 cioè insomma periodo più del capitalismo che conosciamo che conoscevamo molti di noi con il quale siamo cresciuti c'era sostanzialmente le diverse fasi della produzione si prendevano più o meno la stessa cioè non c'era molta differenza adesso invece abbiamo una gigantesca differenza cosa dov'è sta differenza è che chi contribuisce alla prima fase della produzione del prodotto che è basato su sostanzialmente su brevetti e quindi su un monopolio intellettuale quindi su un monodiritti di proprietà intellettuale la parte diciamo relativa alla detenzione dei brevetti se la prende tutta quindi le rendite per questi brevetti va tutta si prende questa grossa parte del valore poi dopodiché come dire l'impresa multinazionale alla fine produce un bene finale che ha un valore sul mercato questo valore sul mercato di questo bene finale com'è che viene diviso nelle varie fasi produttive la questione è che se lo prende quasi tutto alla prima fase e qua sono i brevetti e l'ultima fase che ha a che fare con marketing e con tutta la parte del brand e così via tutto e quindi il capitale quello che viene chiamato il capitale intangibile e dentro quindi capitale brevetti capitale intangibile questo e poi i lavoratori che lavorano qui dentro e qui dentro che sono pochi tutti gli altri guardate qua ma questa è la parte della produzione in questa catena globale del valore si prende pochissimo perché evidentemente adesso la sto facendo un po' semplice ma purtroppo è così vanno a prendersela diciamo vanno a a cercare la forza lavoro nei paesi più poveri dove evidentemente costa meno oltre che a ridurre anche il numero dell'input lavorativo e quindi molto poco e quindi il grosso del valore qua e qua e prima invece vedete come era distribuito nelle diverse fasi poi da sempre chi stava in una ed era più specializzato prendeva più dell'altro questo qui sono le diverse fasi produttive però è interessante da questo grafico come la trasformazione dell'impresa in una catena globale del valore che può basarsi su esternalizzazioni e quindi su una forma di come dire shopping di ricerca nel mondo delle condizioni più renditizie per l'impresa di produzione e poi anche di tassazione ma oggi non parliamo di questo ha modificato completamente la distribuzione del valore a favore del capitale non tangibile e invece ha ridotto fortemente tutto quello che va al mondo ai lavoratori che sono occupati nella produzione e quindi non ci dobbiamo occupare di questo anche se alla fine ci fosse qualche pensate ad esempio alle affermazioni che ci vengono dette ogni tanto ah vabbè su questo livello globale ah vabbè è vero è aumentata la disuguaglianza però la povertà estrema è diminuita a parte che la povertà estrema sono due dollari al giorno e forse varrebbe la pena avere un obiettivo leggermente più ambizioso ma di tutto questo non ci dobbiamo preoccupare non ci dobbiamo preoccupare di come viene distribuito il valore in tutte queste fasi qua in mezzo questo è un problema di giustizia e quindi a prescindere dalle conseguenze questo conta sotto un profilo di giustizia e quindi le disuguaglianze occuparsi delle disuguaglianze conta molto io direi che questo allora ancora questo punto sto qua esattamente arrivando alla fine non ho più nulla da dire tranne che due cose che le disuguaglianze economiche queste disuguaglianze si fondano su due altre gigantesche disuguaglianze di cui avete parlato oggi e ieri e quindi io tranquillamente ne posso fare a meno la prima grande disuguaglianza è che questa produzione sulla quale alla quale io ho portato l'attenzione perché ho parlato di reddito sostanzialmente un po' di ricchezza poco ma di reddito quindi ho parlato di valore aggiunto di produzione anche in quest'ultimo grafico questo valore viene prodotto in gran parte sulle spalle anche delle donne che si occupano della riproduzione sociale e quindi di tutto quello che rende come dire serve anche a qualificare i diversi soggetti i diversi attori che partecipano a questa produzione e la riproduzione sociale non è soltanto questione di riproduzione degli umani che viene delegata in gran parte alle donne ma Linda Laura sicuramente con la sua forza ne avrà a lungo parlato di questo ma viene anche come dire ha delle ripercussioni anche sull'ambiente perché la riproduzione sociale richiede sia che noi come umani continuiamo a svilupparci ma anche l'ambiente nel quale viviamo continua a svilupparsi e quindi le disuguaglianze economiche impattano anche su queste due altre variabili ok io direi che quindi per finire quello che mi sembra abbastanza chiaro quello che ho cercato di fare di far vedere come le disuguaglianze bisogna occuparsi nelle altezze si contano ma insomma non basta guardare a quello occorre ragionare su perché ci devono preoccupare e le ragioni di preoccupazione sia con riferimento alle conseguenze sia con riferimento ai processi di produzione di queste disuguaglianze stesse sono molteplici grazie grazie a te grazie grazie Elena posso darmi per la straordinaria chiarezza dell'argomentazione che hai fatto perché a fine conti è un'argomentazione molto difficile quella di riuscire ad argomentare fondamentalmente il perché è giusto mettere in discussione le disuguaglianze non è una cosa semplice l'hai costruita con una straordinaria chiarezza e devo essere francamente affascinato dalla reazione che hai fatto grazie di cuore grazie grazie Ferruccia no ma è bello proprio sincero voglio sentire commenti e domande da parte dei nostri interlocutori c'è Filippo vediamo vediamo un attimo era Filippo Iselli ho visto Filippo Iselli prego prego Filippo Iselli prego grazie mi sentite? sì possiamo anche vederti vediamo adesso se arrivi anche sullo schermo va bene anch'io anch'io veramente la ringrazio molto sono quasi rincuorato cioè sebbene la 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 tristezza di e la durezza di quello che che ci ha spiegato penso che ci abbia dato degli strumenti veramente efficaci anche per resistere a un bombardamento continuo e io su questo bombardamento vorrei chiederle da studente universitario se potesse spendere ancora qualche parola sul sul circolo vizioso fra distribuzione diseguale dei redditi primari e rafforzamento dei pregiudizi meritocratici soprattutto in ambito formativo se se è una diciamo una un tema che ha che ha approfondito grazie preferisci rispondere subito Elena o preferisci raccogliere no no ne raccolgo magari qualcuno qualcuno la preferirei raccogliere benissimo allora vediamo un attimo sono altre domande se no comincio a parlare rispondo all'altra non c'è un altro per adesso vediamo perché faccio abbastanza in fretta allora dunque domanda bella io posso dare delle indirizioni bibliografiche su questo sicuramente allora dal punto di vista dei meccanismi attraverso i cui attraverso i quali si è diffusa la prospettiva meritica ci sono dei lavori interessanti che fanno vedere l'intervento pesante di molte fondazioni sia statunitensi sia inglesi ma soprattutto statunitensi per far passare questa posizione che le disuguaglianze di mercato sono disuguaglianze diciamo giustificabili perché riflettono i meriti e questo però è stato un'operazione come dire costruita tanti investimenti tanti investimenti nelle università cattedre che si sono finanziate per rappresentare questa posizione sono diversi lavori questo è soprattutto per gli Stati Uniti questo il il come il come si è diffusa esattamente i meccanismi attraverso i quali si è diffusa questa il convincimento più meritocratici quindi come hanno agito io questo non lo so è una questione più una formazione più filosofica ed economica e questa è una base più sociologica quindi quello che ho cercato di mettere in evidenza è semplicemente il dato empirico facendo vedere come all'aumentare delle disuguaglianze anche questi convincimenti sono andati si sono come dire solidificati esattamente il meccanismo attraverso cui i cambiamenti materiali si solidificano si compongono e si si rafforzano i cambiamenti normativi quindi i canali di mezzo di nuovo se o lo mando alla Casa della Cultura lei mi scrive una mail e io le posso trovare dalla letteratura ma quello non è il mio tema principale perché è un tema un po' più sui meccanismi più sociologico quello che io ma lei non me l'ha chiesto saprei dirle e più che altro perché la meritocrazia ha tanti lati negativi sotto un profilo però filosofico non sotto di giustizia non però però sarei interessato comunque a chiederglielo quindi se vuole allora beh quello abbiamo già fatto azione però per gli altri dopo se ne parliamo due anni fa esattamente sui limiti della meritocrazia ma essenzialmente che adesso vediamo se non ci sono altre domande se gli altri perché questo è molto lungo ma posso suggerire allora un libro che ho trovato bellissimo su questo il libro di Sandel La tirannia del merito che l'ho trovato davvero splendido perché con più chiarezza tra i tanti altri fa emergere il rapporto fra meritocrazia e un discorso che è dilagato vincenti e perdenti io devo dire sono rimasto molto colpito perché con semplicità ci introduce su questo snodule il dibattito pubblico che rimbomba in orecchia di tutti e che io ho sempre trovato come il più fastidioso di tutti ecco collega intimamente l'idea che è giusto avere vincenti e perdenti con la meritocrazia io ho trovato questa argomentazione di Sandel francamente splendida e molto convincente scusi se mi sono permesso di grazie allora aggiungo quello che diceva giustamente Ferruccio che io scrivo insieme ad altri questa newsletter gratuita che si chiama Etica Economia e noi su Etica Economia abbiamo fatto una recensione sia di Sandel sia di e io invece ho fatto una di quest'altro libro carino di Markowitz che è un professore di Yale che attacca anche il merito sotto un altro profilo facendo vedere come il merito potrebbe quando diventa troppo ricercato potrebbe anche come dire penalizzare i cosiddetti vincenti quindi un bel complemento con la lettura di Sandel con la lettura di Sandel e poi dopo insieme con Franzini e con Reitano noi abbiamo scritto un libro Dobbiamo preoccuparci dei ricchi nel capitolo 3 era tutto un capitolo contro la meritocrazia se vuole appunto se mi scrive le posso mandare parecchia come dire riferimento perché è un mio tema come dire di grande interesse i problemi etici della meritocrazia però sostanzialmente le ragioni quali sono ma le ragioni sono abbastanza quelle che abbiamo detto la meritocrazia ci dice che tu hai un'abilità diciamo che quello che tu ti insomma che devi essere remunerato sulla base della tua abilità e del tuo sforzo allora la questione è che l'abilità è in parte lo faccio molto velocemente qualche cosa di naturale dipende dalla dipende un po' dalla lotteria naturale e poi dipende anche ancora dalla lotteria sociale esattamente come lo sforzo ma poi a prescindere da questo le abilità non sono qualche cosa di diciamo tu non sei bravo perché hai quelle cose tu sei bravo perché qualcun altro in un dato contesto di regole ti attribuisce un valore per quelle cose e questo è il punto diciamo il limite più forte della meritocrazia adesso la faccio molto veloce è un argomento molto complicato e mi scuso però molte critiche alla meritocrazia penso a Rawls si sono appuntate al fatto che le abilità sono qualche cosa di naturale e tu il naturale non è né giusto né ingiusto è naturale e quindi non ti posso dare dei soldi in più o remunerare di più perché il fatto tuo di essere abile ha a che fare essenzialmente con la lotteria naturale secondo me questo tipo di critica che viene fatta insieme a critiche simili per cui si dice che anche la capacità di sforzarsi dipende dal contesto in cui tu sei cresciuto questo tipo di critiche sicuramente ha una sua validità ma secondo me è largamente insufficiente perché un punto importante che queste critiche sottovalutano è il seguente che il tuo merito quello che tu credi essere un tuo merito personale dipende dalla società non dipende da te stesso e lo dipende sotto due profili che sintetizzo in questo modo primo profilo quello che io porto sul mercato non è soltanto frutto di quanto io abile sono dal mio IQ di quanto io sono abile o dello sforzo che io ho perché sono pronta a sforzarmi i miei genitori mi hanno aiutato e bla 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 ma quanto io porto dipende moltissimo dal lavoro di squadra cioè da come il mio prodotto marginale quello che io faccio si congiunge con tutto quello che gli altri fanno attorno a me anche una cosa così banale come una lezione universitaria o quello che io posso fare all'università dipende da come l'università è organizzata non dipende soltanto da me dipende dalle infrastrutture complessive di cui uno può godere e così via questo è il prodotto poi quello che io valgo cioè quello che io riesco a prendere dipende come ho detto prima moltissimo da quanti sono gli altri con le mie abilità e dipende da quanto gli altri valutano le mie abilità io pensiamo quanti filosofi non apprezzati nella loro vita e apprezzatissimi dopo e così tante altre persone quindi c'è questo elemento sociale che va oltre diciamo che secondo me il ragionamento meritocratico non prende in considerazione e potremmo questo per quanto riguarda la dimensione di mercato lei può parlare anche poi probabilmente sull'istruzione e su quanto sia sensato di la meritocrazia magari questo lo rimandiamo dopo però per dire qualche cosa in più su perché la meritocrazia è problematica non solo perché falleva su una variabile naturale che come tale naturale casuale ma perché tende a sottovalutare tutto quanto gli altri fanno per noi c'era una frase che a Marti a Sen mi sembra non mi ricordo comunque riprendevano una lettera di Seneta perché c'è una pietra diciamo c'è questa cosa meravigliosa questo arco e alla fine sembra che ci sia soltanto una cosa la costruzione di quell'arco richiede praticamente l'apporto di tutti quanti i singoli elementi sembra che un'unica pietra lo tenga in piedi ma in realtà lui sta in piedi questo arco perché c'è tutto al complesso delle pietre per far vedere l'interdipendenza sociale che è molto forte posso aggiungere una cosa ancora ho l'impressione che questa battaglia sarà piuttosto lunga da combattere perché mi ha molto colpito il fatto che è appena uscito un libro di un filosofo Marco Sant'Ambrogio che invece ostensatamente come dire combatte per la meritocrazia se ho ben capito non sono ancora riuscito a leggerlo ma tu sicuramente l'hai già visto no io l'ho visto perché la terza l'ha pubblicato e l'ho avuto quel libro però non l'ho ancora letto devo dire ma mi propongo e lo voglio sicuramente recensire per Etica Economia la segnalazione primamente stavo riflettendo su tutti i guasti della meritocrazia devo dire mi ha colpito il fatto che sia arrivato la segnalazione di questo ultimo lavoro del nostro Sant'Ambrogio vedo che c'è Pier Giorgio Daniele per essere una piccola cosa che faccio più veloce di Anna Passerini posso rispondere esatto proprio per questa connessione fra contesto sociale economico e eguaglianza di opportunità intergenerazionale quello era un momento in cui l'economia offriva chance di miglioramento a più persone e anche alle persone che provenivano da contesti più svantaggiati o anche con dei livelli di istruzione inferiore erano gli anni che ad esempio Krugman chiamò gli anni della grande compressione cioè mentre questi sono quelli della grande divergenza c'erano anni in cui l'economia produceva lavori c'era complementi diciamo più decenti c'era più senza fare chiaro che erano anche gli anni in cui c'era razzismo c'era sfruttamento non facciamo solo bellissimi anni sessanta però sicuramente c'erano gli anni in cui c'era più produzione di buoni lavori c'erano più c'era molta meno disuguaglianza è interessante appunto tante ricerche che si stanno facendo adesso mettono in evidenza come ci fosse più complementarità anche chi era più chi era più skilled chi aveva più abilità aveva bisogno di lavorare con persone magari con delle competenze tecniche medie e quindi si lavorava insieme all'interno della stessa impresa anziché in qualche modo si condivideva anche lo stesso la stessa vita lavorativa mentre adesso invece questa complementarità si è completamente rotta e abbiamo nei paesi industriali avanzati nelle grandi città una grande concentrazione di persone molto specializzate e gran parte del lavoro che invece viene esternalizzato adesso ci sta peggio comunque per dirla più chiaramente e più brevemente sicuramente gli anni 60 il problema era l'economia era un'economia che creava più possibilità di lavori decenti per le persone e quindi non c'era questo blocco che invece adesso c'è stato perché perché quando il gioco diciamo quando se se le pensi a una se i buoni posti sono pochi questi buoni pochi questi pochi buoni posti tendono ad essere accapparlati tendenzialmente da chi sta meglio comunque e quindi il problema è questo il problema è proprio questa sua domanda e vorrei solo finirla così mi sembra veramente molto utile molto bella perché esattamente mette in maniera chiara in evidenza la correlazione che ci deve essere fra quello che capita nell'economia e quindi la distribuzione primaria quello che l'economia ti offre e la possibilità di avere contrasto alla povertà e comunque nel caso che lei ha citato più uguaglianza di opportunità intergenerazionale perché ci sono meno strozzature e quindi ci sono più possibilità per le persone di avere una vita decente sentiamo per Giorgio Daniele io volevo chiedere beh innanzitutto ringrazio la Casa della Cultura perché ogni lezione che stiamo vivendo le vivo veramente come provocazioni intellettuali mi spiego parliamo di disuguaglianze ma io mi chiedo ma c'è qualcuno due secoli fa che ha analizzato scientificamente il sistema che ha chiamato capitalistico e che ha semplicemente detto che la disuguaglianza e quindi lo sfruttamento eccetera eccetera nasce dalla acquisizione di un plus valore da parte di pochi rispetto al valore prodotto dai tanti allora questa affermazione che mi sembrava ovviamente secondo me spiega molto semplicemente tutto quello che succede e che è successo fino ad oggi nel sistema capitalistico la mia domanda è semplicemente questa se non ritiene Granaglia se non ritiene che chi ha dato dei dati materiali concreti per analizzare la disuguaglianza che si è creata le disuguaglianze che sono create in questo secolo sia innanzitutto nel 2014 il lavoro di Thomas Piketty il capitale nel ventunesimo secolo e successivamente il più recente lavoro di capitale e ideologie secondo me queste due analisi scientifiche del sistema danno gli elementi per capire quelle che lei ha chiamato disuguaglianze relative eccetera eccetera allora il discorso è almeno nei 30 anni in cui ho fatto la professione di promozione finanziaria correva il detto e penso che non era falso che i più grandi manager che oggi abbiamo nel mondo hanno studiato il capitale di Marx per capire come funziona il sistema capitalistico e quindi sviluppare nell'economia tutto quanto allora io ritengo che questo discorso delle disuguaglianze oggi più che due secoli fa è ricco di analisi scientifica di questa situazione cioè noi abbiamo oggi sempre maggiore coscienza e conoscenza del disuguaglianza che il sistema crea il problema che si pone mi pare che si è posto da due secoli la sinistra è diventata poi centro-sinistra è come riuscire a superare queste contraddizioni cosiddette quindi diciamo che affermare la situazione delle disuguaglianze in maniera sempre più scientifica eccetera certamente ci aiuta ma secondo me oggi dobbiamo anche spiegarci per esempio oggi cosa significa il fatto che in Afghanistan il terrorismo ha conquistato il potere che ci sono catastrofi naturali e flussi migratori enormi che premono sull'Occidente che tutte queste cose qua le disuguaglianze di genere e così via secondo me la domanda che dovremmo approfondire non solo la casa della cultura ma certamente tutta la sinistra è come oggi riusciamo ad uscire da queste contraddizioni di fondo quindi questa è la vediamo ci sono altre oppure Elena sì c'è una domanda ancora qui il Maurizio il microfono un attimo Elena un secondo la mia è solo una riflessione mi ricollego all'intervento dello studente universitario e pensavo al discorso della meritocrazia e al contempo del pericoloso livellamento nella pubblica amministrazione che sappiamo ancora ancora un po' questo cioè intendo dire sì vabbè sappiamo come si può verificare e com'è il livellamento è il fatto che comunque è difficile si confondono un po' i ruoli si confonde comunque la modalità di lavorare di portare avanti la propria attività lavorativa insomma ecco è un livellamento che può essere pericoloso insomma bisogna trovare motivazione in se stessi ecco grazie allora due domande complicate la prima c'è ancora una domanda ok sì niente sì Riccardo Vigo è giusto per sottolineare l'importanza dei limiti dei limiti della distribuzione delle risorse dell'ecosostenibilità cioè il fatto che non possiamo pensare di risolvere il problema dell'ecosostenibilità semplicemente contribuendo al concetto dello sgocciolamento diciamo agli stati più bassi dell'ecosostenibilità di risolvere il problema dell'ecosostenibilità semplicemente chiedendo appunto agli strati più bassi della proporzione dello mondiale di consumare meno risorse rispetto alla diciamo agli altri è venuto fuori anche con le posizioni dei cinesi degli indiani alla coppia 26 voglio dire quindi è giusto che dobbiamo pretendere la distribuzione di ricchezza del reddito anche per la nostra sopravvivenza sul nostro pianeta inteso con l'umanità quindi l'equilibrio per combattere le disuguaglianze sia fra dire una posizione di tipo morale quindi il concetto dell'ecosostenibilità delle persone ma anche il problema di tipo esattamente come dire di limiti delle risorse perché sono risorse infiniti per tutti per dare la possibilità a tutti il tema è molto ampio per chi grazie grazie allora adesso io però risponderei poi dopo se ce ne sono altre ferruccio ritorno se no mi dimentico le cose posso? anche l'affermazione di Angelo sì l'ho vista l'ho letta perché quella rischia di essere un po' di ribaltare il senso perché noi in realtà siamo qui per ragionare come contrastarle non per dar per scontato che devono aumentare questo è un punto devo dire piuttosto importante in tutta la nostra discussione e comunque volevo dare a te la parola a te la parola allora io innanzitutto vorrei cominciare dall'ultima domanda forse per quella sulla ecosostenibilità allora su due non so se ho ben capito però due cose la prima che mi sembra che lei abbia detto a un certo punto non dobbiamo contrastare le disuguaglianze soltanto per ragioni moralistiche ma anche perché alla fine c'è un problema di sopravvivenza del pianeta allora io sono d'accordissimo con lei che bisogna sul pianeta c'è bisogno con lei c'è bisogno con lei di assicurare una maggiore ecosostenibilità e così via però forse perché ovviamente ha subito entrato in una cosa invece io qui ho a cuore il moralismo penso che anche per fare quello quando uno si occupa di giustizia non è che vuole essere moralistico ma cerca di ragionare su come ottenere di giustizia sociale in particolare ma come come ottenere determinati risultati diciamo di usare la valutazione scusate per dirla meglio di usare la valutazione etica per definire obiettivi concreti e nel raggiungimento di quegli obiettivi come distribuire costi e benefici dell'interazione sociale quindi la giustizia non è una cosa moralistica è un ingrediente fondamentale dell'etica democratica e quindi ci serve a capire anche quello e con riferimento alle cose che lei giustamente diceva quando mi si dice quando lei diceva se ho ben capito dobbiamo evitare che i paesi India e Cina continuino a inquinare così tanto perché se no alla fine tutti quanti non ce la facciamo più vivere in questo pianeta e le generazioni future ancora peggio due cose la prima che anche per far quello noi dobbiamo occuparci di questioni di giustizia ad esempio Jeffrey Sachs alcuni giorni fa ha proposto di finanziare un fondo per la transizione ecologica utilizzando una struttura di imposizione sulla CO2 molto progressiva con i paesi un po' progressiva con i paesi più ricchi che pagano di più rispetto ai paesi più poveri e non solo questo ma addirittura ha proposto un'imposizione chissà se mai si potrà fare questo ma questo però per dire che l'ha proposto un'imposizione sui paesi più ricchi che in passato hanno potuto inquinare a danno di quegli altri che invece non hanno ancora inquinato perché stanno inquinando adesso perché prima non si stavano sviluppando allora e di utilizzare il gettito di questa imposizione per avere un fondo globale che va in gran parte a favore dei paesi in via di sviluppo allora questa posizione io non sono un'esperta di quelle di tastazione ambientale però questa posizione può essere criticata o non criticata ma per sostenerla sono utili ragionamenti di giustizia è giusto che i paesi più ricchi si prendano questa responsabilità che paghino le aliquote sulla base di una progressività a cui ho fatto riferimento che ci sia addirittura un'imposizione sui peccati commessi in passato dai paesi più ricchi quindi la giustizia mi sembra essere un ingrediente fondamentale nel quando noi poi dopo è chiaro che la scelta democratica dovrà alla fine basarsi sul consenso però in questo scontro incontro del dialogo democratico le posizioni in questo sì è vero io sono molto impostazione le posizioni dovrebbero cercare di dare delle ragioni delle giustificazioni e com'è che io giustifico giustifico sulla base di considerazioni dove l'elemento etico o comunque di giustizia è importante poi certo lo applico a cose concrete la tassazione quindi quando vado poi a vedere quanta l'imposta ambientale sulla CO2 deve essere per tonnellata andrò anche a vedere quali possono essere gli effetti sulla crescita possibili disincentivi e bla 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 quindi la unisco ad altro non è l'unica ma non è moralismo mi sembra proprio un ingrediente di questo vorrei una mia posizione ma mi sembra proprio un ingrediente invece importantissimo della riflessione politica democratica l'altra domanda quella relativa al livellamento allora innanzitutto vediamo su che cosa rispetto a premiare lo stesso Rawls che è una delle persone più critiche rispetto alla meritocrazia che possiamo conoscere perché sappiamo che non darebbe nessuna differenza di reddito ai più bravi però lo stesso Rawls è molto chiaro nel distinguere due piani della meritocrazia primo piano è che le posizioni devono essere date alle persone sulla base dei loro meriti i meriti devono essere come dire definiti nel modo anche questo un po' democratico perché in una società maschilista ad esempio i meriti sono definiti in un certo modo rispetto ad altri qui per fare solo un esempio che probabilmente è stato fatto ieri però ipotizziamo che ci sia una partecipazione nella definizione del merito oppure una società ultra competitiva definisce il merito in un modo che ci sembra non conforme ai principi di giustizia vorremmo invece premiare di più anche la capacità di cooperazione ma non entro nel dettaglio di come definire il merito ipotizziamo che siamo arrivati a definirlo se dobbiamo scegliere un buon primario un primario anche persone non meritocratiche diciamo che criticano alla veritocrazia diranno che la scelta del posto da primario deve essere fatta sulla base di quello che sulla base delle visioni condivise di che cosa sia un buon primario risulta il migliore primario quindi non il livellamento assolutamente verso il basso sulle competenze al contrario quel buon primario avrà anche delle responsabilità maggiori quindi per quelle responsabilità anche ovviamente dovrà avere una retribuzione una retribuzione maggiore rispetto ad altri che invece hanno meno responsabilità che ad esempio non hanno il rischio di uccidere persone quando operano e così via quindi chi è contro la meritocrazia o comunque ne vede non è che sia contro il merito cioè noi tutti vorremmo il primario migliore l'insegnante migliore definito in questo senso come ho detto prima del migliore e ovviamente tutti ragioniamo quasi tutti pensano che ci debba essere anche una disuguaglianza nelle retribuzioni il problema è giustificare le disuguaglianze che possono avere appunto a che fare con lo sforzo che viene fatto con un po' di sforzo con le responsabilità che sono legate al lavoro e così via è difficile pensare che una struttura le faceva riferimento al livellamento ma il livellamento della pubblica amministrazione sì c'è un po' verso il basso rispetto agli stipendi ma se noi andiamo a vedere le disuguaglianze nelle retribuzioni la pubblica amministrazione è piena di disuguaglianze perché in particolare nell'ultimo periodo negli ultimi anni con lo sviluppo anche del new public management e così via c'è stata una forte differenziazione della retribuzione chi sta al vertice prende parecchio di più di chi sta in basso e quindi non è un settore dove c'è stato semmai dal mio punto di vista penso che ci dovrebbe essere un po' di livellamento al vertice un po' meno verso il basso per cui per chiudere mi sembrerebbe importante distinguere fra livellamento rispetto alle competenze siamo tutti uguali no ci sono persone che hanno più competenze rispetto ad altri sì almeno questa è la mia posizione e livellamento rispetto alle retribuzioni livellamento rispetto alle retribuzioni neppure ci deve essere ma al tempo stesso neanche disuguaglianze così elevate come quelle che ci sono in questo adesso quanto disuguaglianza questo possiamo parlarne un'altra volta penso che non possa essere altra via che la democrazia con delle come dire discussioni scontro fra diverse posizioni sicuramente non sulla base del fatto che io mi merito tutto quello che il mercato può dare ma le disuguaglianze che si generano probabilmente potrebbe dire che si generano in un contesto giusto che cosa vuol dire questo vuol dire un contesto in cui ad esempio c'è trasparenza tutti sappiamo le retribuzioni l'uno degli altri in cui le persone non c'è un club chiuso in cui si può entrare nel consiglio d'amministrazione in cui si decidono gli stipendi si può lavorare sacconi di questo parla tanto anche una volta che noi abbiamo definito regole di funzionamento delle istituzioni che si sembrano più conformi a giustizia le disuguaglianze che si generano in quel contesto sono disuguaglianze accettabili in un contesto in cui invece le nomine vengono fatte in gran parte per appartenenze politiche per forme di appartenenza lobby eccetera eccetera probabilmente in cui non c'è partecipazione all'interno dell'organizzazione quello non è un contesto che genera disuguaglianze accettabili sotto un profilo di giustizia sono stata un po' generica ma tanto per dare un po' l'idea di quale direzione muoversi l'altra domanda l'altra domanda in realtà secondo me non era neanche una domanda era un insieme di affermazioni alcune su diversi piani quindi su alcune erano affermazioni allora vediamo se l'ho presa giusta e poi se non l'ho presa in maniera giusta chi me l'ha fatta ovviamente mi può rispondere allora io non lo so io non credo che allora innanzitutto è stato detto molto la parola scientifico 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 insomma è complicato sapere come giustamente ricordava Atkinson anche gli indicatori hanno una componente normativa perché ogni volta che io vado a prendere un indicatore devo stabilire devo prenderne un pezzo e quindi guardo la disuguaglianza ad esempio gli indicatori di disuguaglianza ne prendono solo un pezzo perché non posso avere un indicatore che prende tutto il mondo ma a parte ma è anche col sovrappiù con lo sfruttamento quanto deve andare al lavoro quanto deve andare al capitalista quanto deve andare ai lavoratori perché nel mondo di Marx era un mondo in cui con lo slogan io mi ricordo chi lo diceva lo slogan lavoratori di tutto il mondo uniti poteva avere un senso perché l'opposizione era lavoro capitale mentre adesso vediamo che abbiamo anche una forte eterogenità all'interno del mondo del lavoro sappiamo che due terzi delle disuguaglianze negli Stati Uniti ad esempio sono dovute alle crescite degli stipendi astronomiche nei lavoratori più in alto quindi anche per entrare nel dettaglio di sapere il plus valore come lo distribuiamo penso che in un mondo abbastanza complesso quale il nostro dobbiamo compiere delle scelte di valore è vero che diciamo che Marx ha messo in evidenza come ci sia uno sfruttamento nel mondo del lavoro questo nel mondo capitalistico nel modo di produzione capitalistico ok però appunto la mia risposta sarebbe una volta che noi l'abbiamo accertato questa cosa l'abbiamo condivisa com'è che lo risolviamo se non pensiamo che automaticamente le forze meravigliose del progresso ci porteranno in quella direzione quindi abbiamo un problema di come fare e quindi di scelte da compiere e queste scelte devono essere scelte che non sono tutte scientifiche richiedono anche principi per scegliere tra una cosa e l'altra e in secondo luogo penso che le forme dello sfruttamento cambiano moltissimo a seconda dei diversi sono cambiate molto era molto era diverso il mondo furdista rispetto al mondo delle catene globali del valore e quindi entrare un po' più nel dettaglio anche di come oggi dal punto di vista descrittivo mi sembra utile lei mi sembra aver detto che Picchettini nei suoi due libri ha già detto tutto Picchettini ha detto molto ma semmai ha detto molto di lui anche tanti altri Picchettini è arrivato nel 2014 la consapevolezza della crescita delle disuguaglianze penso Stiglitz penso Cruz scusa ho detto che ha iniziato a dire qualcosa ha iniziato a dire qualcosa e quelli prima non hanno detto nulla Stiglitz Atkinson ma io ritengo che la sinistra la cultura di analisi scientifica del sistema capitalistico dopo Marx non si è più sviluppata si sono accettati dei principi e si è andati avanti no? le rivoluzioni le cose eccetera eccetera ma un'analisi scientifica della evoluzione di questo sistema secondo me Picchettini l'ha ripresa in questi due libri che ovviamente sono l'inizio di analisi scientifica ma che non si è più fatta cioè questo è il problema l'unico risposta che darei è che rispetto al primo libro quello dove tutto era basato sulla differenza fra R e I quindi sul tasso di crescita dell'economia perché magari non l'ha letta ovviamente lei l'ha letta non lo sto solo dicendo agli altri la differenza fra tasso di crescita dell'economia e tasso di crescita di remunerazione del capitale e era tutto basato insomma era molto basato su quello e Picchetti stesso sull'ultimo dei numeri dell'American Economic Review più recenti ha detto che era totalmente sbagliato e quindi quell'analisi scientifica è stata criticata da moltissimi economisti di sinistra americani e Picchetti stesso alla fine si è reso conto io non sono una macroeconomista non ho la sua competenza scientifica ma Picchetti è tornato molto molto indietro rispetto a quelle sue considerazioni io mi occupo appunto di politiche sociali di contrasto alla povertà anche in altro modo insomma non ho la competenza per fare una valutazione complessiva di come si muove il capitalismo come ha fatto Picchetti però le sue la sua da parte di Picchetti il suo riconoscimento di avere sbagliato in quell'equazione in quella formula di confronto fra Ike superiore ad R mi lascia qualche perplessità sì ma anche il capitale ha sbagliato nelle sue equazioni potremmo dire che tutti quelli che tentano di fare l'analisi scientifica lei ha parlato di disuguaglianza Borgio scusi un attimo no ma voglio precisare che la ringrazio dell'informazione che Picchetti ha smentito quanto ha scritto nel primo libro e questo mi serve ovviamente per però quello che dico è che quello che manca è un metodo di analizzare come nascono le disuguaglianze per esempio pronto? sì sì io posso rispondere ma era fuori ok possiamo dire va bene ma non era il tema della mia lezione quindi non è un'altra domanda questa non ho ok va bene Elena diciamo che possiamo chiudi qui la tua argomentazione io chiederei di rispondere ad Angelo questa cosa che ti ho detto prima ah sì perché così chiudiamo come dire con con precisione le nostre diamo anche il senso dell'argomentazione complessibile che tu hai svolto che tra l'altro è stata chiarissima e molto efficace allora anche questa dunque è chiaro che questa mia la persona che credo almeno che mi ha preceduto richiederebbe un altro tipo di risposta con un'analisi scientifica del capitalismo per poterle dare una risposta precisa le rispondo nel modo in cui sento a me più vicino il modo a cui sento a me più vicino che sarà un modo come dire più minimalista è un modo di comunque sapere che molte di queste disuguaglianze sono dal tipo di analisi che abbiamo fatto e dal riconoscimento che molte di queste disuguaglianze sono disuguaglianze ingiuste incominciare anche incrementalmente a cercare di contrastarle e le vie per contrastarle ci sono sotto il profilo sia di interventi sul piano della democrazia economica e quindi della predistribuzione piccole cose io penso che avere in mente quale diciamo un'idea appunto di disuguaglianze giuste e di disuguaglianze ingiuste avere questa indicazione di fronte a noi ci può aiutare anche per selezionare i piccoli passi che possiamo fare faccio un esempio ho parlato prima del fatto che una parte una delle ragioni per la quale il lavoro nella parte bassa prende sempre di meno ha a che fare con questa crescita totale del crescita molto forte delle esternalizzazioni allora piccoli piccoli interventi che sono stati fatti che sono stati chiesti che ad esempio anche i sindacati chiedono sono interventi di vietare alle diciamo e ne avremo tanti di appalti adesso che verranno dati col PNRR di vietare appalti a imprese che quando esternalizzano non applicano i contratti i contratti quelli nazionali questa è una via poi lo so che ci sono problemi perché c'è il problema con la rappresentanza quale contratto c'è la frammentazione dei contratti e va bene cercheremo anche lì di dire che c'è necessità di una legge sulla rappresentanza di lavorare su quella per avere dei contratti per evitare la questione dei contratti pirata questo soltanto per fare un piccolo un esempio per una misura predistributiva che incide sul tipo di disuguaglianze che si creano nel mercato c'era un'altra norma che era interessante negli Stati Uniti ai tempi di Obama che era stata discussa e che era quella di dire che le imprese dal reddito societario non potevano dedurre più di un milione di dollari di costo del lavoro per il loro amministratore delegato perché se gli azionisti pensavano che l'amministratore delegato fosse così fantastico se lo sarebbero dovuti pagare con i loro profitti e non a costo del contribuente americano queste sono piccole sono cose sono indicazioni che vanno in questa direzione diciamo una volta che uno ha chiaro un po' la direzione verso la quale muovere incrementalmente cercare di raggiungerla dal punto di vista fiscale noi ci troviamo di fronte oggi a una delega fiscale che prevede alcune cose abbastanza preoccupanti le cose abbastanza preoccupanti sono ad esempio questo sicuramente una riduzione ma così ci viene detto della pressione fiscale complessiva un'idea che pagare diciamo l'abolizione dell'IRAP che è un'imposta che finanzia per circa un quarto la spesa sanitaria il mantenimento non c'è nulla sul mantenimento di quell'ingiustizia che noi abbiamo perché un lavoratore di un dente da 65 mila euro si prende diciamo a un'aliquota marginale del 41% e un lavoratore autonomo del 15% cioè la riforma fiscale di nuovo in particolare poi se ci muoviamo nella prospettiva di chi ha parlato prima e cioè di Pichetti Pichetti è una cosa secondo me assai interessante che in particolare nel penultimo libro ci va a raccontare è sulla possibilità di introdurre delle aliquote fiscali più di aumentare la progressività dell'imposizione noi come forum di esuguaglianza e diversità in questa è una prospettiva simile a quella di Pichetti per quanto riguarda l'imposizione abbiamo proposto di rafforzare la progressività sull'imposta di successione cioè ci sono una volta che uno ha chiaro che deve intervenire su diversi ambiti ambito cosiddetto predistributivo quindi il mercato come distribuisce i suoi frutti e ambito redistributivo quindi che cosa posso fare con tassazione e trasferimenti allora diciamo questa questa consapevolezza ci può orientare un po' nelle scelte io l'ho fatto due esempi su esternalizzazioni e su tassazione una predistributiva e l'altra redistributiva che possono dare un po' un'idea del tipo di intervento che mi sembra utile fare poi gli esempi evidentemente possono essere diversi no mi sembra una conclusione splendida perché in effetti anche io sono profondamente convinto che il nodo di fondo è chiaro dove si vuole avventuare di avere l'intima convinzione la capacità di argomentare con forza del dove si vuole andare e da questo punto di vista penso che la tua lezione è stata davvero un arricchimento anche teorico straordinario devo bisogno di ringraziarti per questo devo dire tutte le volte ci dai dei contributi notevoli devo dire sottolineo fortemente devo dire poi questa istinzione acutissima che hai fatto meritocrazia merito che è tutt'altro che banale penso tante volte ne ho discuso con il nostro comune amico Lorenzo sul fatto che questo è uno dei nodi più complicati su cui dobbiamo riuscire teoricamente essere chiari perché bisogna con l'opinione pubblica sapere argomentare bene su questo insomma ci hai dato gli argomenti fortissimi per andare avanti nel nostro ragionamento grazie di cuore Elena grazie Farruccio grazie a tutti quanti voi grazie arrivederci ciao Farruccio ciao Elena grazie ciao alla prossima arrivederci ciao grazie a tutti